eccoci a un piccolo breve tutorial a seguito dell'incontro che abbiamo fatto per parlare della qualità delle acque di balneazione questo tutorial vi permetterà di capire dove trovare le informazioni riguardanti le acque di balneazione nell'incontro precedente nel video precedente voi avete tutte le informazioni che riguardano le acque di balneazione quindi come sono misurate quali analisi vengono fatte quando vengono fatte dove avete tutta l'illustrazione di cosa significa aver avuto la bandiera blu in una spiaggia in più quest'anno ce l'abbiamo anche nel lido ma in generale parliamo di tutte le spiagge delle acque di balneazione anche dove la bandiera blu non l'abbiamo adesso però dovete capire dove trovare le informazioni bene è semplicissimo basta andare condividerò lo schermo eccoci qua allora basta andare su abbiamo detto un primo portale e visit fano allora accedete al sito visit fano questo soprattutto per i per i turisti però anche per i cittadini fanesi e già qui trovate numerose info perché se proseguite andate su vacanze in spiaggia tutto molto intuitivo e qui scopri la qualità delle acque cliccate qui e vediamo che si apre il portale delle acque che un portale ministeriale nazionale scrivete il nome del comune fano pesaro urbino marche e qui avete tutte le indicazioni dei punti di prelievo e tutte le spiagge questo portale è molto comodo perché se poi andate in un'altra località qualsiasi altra località balneare del nostro del territorio nazionale del nostro territorio nazionale voi potete trovare la qualità delle acque avete anche pesaro avete anche altro allora andate su fano potete cliccare ad esempio su un'acqua di balneazione che vi interessa e voi qui avete l'indicazione dei dei livelli massimi normativi e anche di quello che è lo sviluppo delle analisi quindi per quanto riguarda enterococchi schiericchiacoli e così via sono i due che vengono analizzati come dicevamo nell'incontro che trovate nel video precedente vedete anche l'andamento delle analisi e quando queste analisi sono state fatte quindi è tutto molto tutto molto chiaro tutto molto a favore di tutela questo picco è il picco che purtroppo corrisponde al periodo in quel periodo in cui c'è stata la grande alluvione che ha portato comunque molti inquinanti nel mare attraverso lo scarico dei fiumi ma come vedete già i livelli si stanno riassestando e siamo comunque rimasti sotto il limite definito che definisce la balneabilità di una spiaggia questo ho preso una prima spiaggia possiamo anche andare in una spiaggia più problematica solitamente è questa qui al contrario vedete che ho superato il limite l'ho fatto volutamente perché so che in quella spiaggia abbiamo avuto un problema perché quella ridosso della foce del fiume metauro però adesso i limiti sono ritornati sotto il livello di guardia quindi trovate tutto tutela questo era il portale di visit Fano attraverso questo voi siete tutelati anche fuori dal territorio fanese perché avete il comodo accesso al portale ministeriale delle acque potete anche trovare informazioni sulle acque di qualsiasi spiaggia in Italia capire dove sono fatte le analisi quando sono state fatte tutto ora invece andiamo a un altro portale che è il portale del comune di Fano anche questo è molto semplice basta digitare comune di Fano compare il sito che è questo più ufficiale clicchiamo qui sopra vediamo che in home page abbiamo subito messo l'indicazione balneazione per trovarlo agevolmente facilmente quindi ecco qui andiamo su balneazione allora quando apriamo la pagina abbiamo cercato di rendere più leggibile la pagina ci siamo messi a tavolino con i tecnici del sistema informatico comunale con i tecnici dell'ufficio ambiente proprio in questo in questo 2023 in questa stagione balneare per rendere tutto più leggibile e fruibile quindi abbiamo messo in prima visione in prima fila esecutività e cessata esecutività delle ordinanze quindi voi trovate subito le ordinanze quelle in corso di validità le ultime ordinanze dopo di che avete il link vuoi identificare l'acqua di balneazione consulta la mappa prima di dopo la consultazione della mappa che vi farò vedere a breve avete l'elenco di tutte le spiagge tutte le spiagge con a fianco il pedice vediamo che ce n'è una non balneabile che è quella che appunto abbiamo visto poco fa riferita alla foce sud del fiume Metauro perché c'è stato comunque un evento meteorico pochi giorni fa dopo in calce trovate ordinanza di inizio stagione ordinanze gestionali e portale balneazione ARPAM quindi qui dopo trovate tutti i documenti in calce quindi vedete che avete l'elenco delle spiagge l'elenco delle spiagge le spiagge hanno una denominazione alfanumerica quindi IT 011 04 eccetera eccetera e sono nominate con con il titolo spiaggia Lido 100 metri sud Molo Arzillo spiaggia Nord Biologia Impresso Biologia Marina Anfiteatro Rastat alcuni sono di facile comprensione altre non capiamo bene dove siano ecco che è possibile consultare la mappa andando a lì che vuoi identificare l'acqua di balneazione il portale è del tutto analogo a quello che avete visto su Visit Pano i codici sono gli stessi però cosa abbiamo fatto per rendere di più facile comprensione dove le acque sono balneabili o meno abbiamo inserito la possibilità da parte degli uffici di colorare di rosso le acque non balneabili quindi adesso quando voi consulterete questa pagina vedrete che vi comparirà in rosso le spiagge che non sono balneabili il resto lo trovate tutto in azzurro questo rende tutto di più facile lettura abbiamo visto dove trovare le informazioni riguardante la balneazione le informazioni sono aggiornate in tempo reale e quindi speriamo di riuscire così a tutelare al meglio i nostri cittadini e la salute di chi viene a vivere e a godere delle spiagge di Fano grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti Grazie.